I carristi, questi bersaglieri senza piumetto della guerra moderna, hanno costituito la loro associazione nazionale e a Latina ha luogo il primo raduno provinciale degli ex appartenenti all'arma. L'onorevole Simonacci porta il suo saluto ai vecchi combattenti e ai giovani delle ultime leve. Un lungo corteo percorre le vie della città diretto alla chiesa di San Marco dove sarà benedetto il labaro di Latina. Una grande corona d'alloro viene deposta dai carristi ai piedi del monumento ai caduti mentre ufficiali e soldati seguono sull'attenti la cerimonia.